Ciao bambini, ciao bambine, sono la maestra Benedetta. Sono la maestra Giussi e oggi vi racconteremo una storia. Sono la maestra Federica e la storia è quella del bruco verde. Hai visto per caso un bruco affamato? Sì, sopra una mela si è arrampicato. Lo guarda stupita la chiocciola Adele. Ehi, guarda che i bruchi non mangiano mele. Il bruco è perplesso ma non si dispera. Va un poco più avanti e trova una pera. La vespa Luisa gli dice, sciocchino, le pere non sono adatte a un bruchino. Il bruco affamato allora che fa? Va sopra una fragola poco più in là. Qui c'è una formica che si chiama Alice. Non mangiano fragole i bruchi, gli dice. Il bruco, un po' triste per la delusione, cammina pian piano e trova un limone. Ma bella libellula, a pieni polmoni, gli strilla Sei un bruco! Non mangi limoni! Il povero bruco così si allontana e sai cosa trova? Una melanzana. Mattea Cavalletta gli fa, che panzane! I bruchi non mangiano le melanzane. Il bruco stavolta va via col magone, quando ecco che trova un bel fungo marrone. Ma zitta Zanzara, ronzandogli fa. I bruchi non mangiano funghi, si sa. È stufo il bruchino, vuol far colazione. E svelto si arrampica su un peperone. Ma il grillo Cirillo gli strilla. Sei matto? Per te un peperone non è proprio adatto. Il povero bruco affamato si lagna, però si consola con una castagna. Ma l'ape regina gli dice Tu sei un bruco verde e non un vermino. Sarò un bruco verde, ma devo mangiare. Qui c'è una ciliegia e la voglio assaggiare. Marina la rana gli dice Crac crac, i bruchi sgranocchiano le foglie, si sa. Il bruco ora corre a cercarsi una foglia. Così può mangiare fin quando ne ha voglia. Ma è stanco e assonnato dal lungo viaggiare. Così fila un bozzolo in cui riposare. E un giorno dal bozzolo chi salta fuori? Una farfalla di mille colori. Che fine avrà fatto il bruchino affamato? E lui la farfalla si è trasformato. Ciao a tutti e a tutte da parte nostra. E ora vi va di provare a costruire il vostro bruchino?